Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della quinta settimana del nostro tempo di Pasqua. Bene, il linguaggio è uno strumento che abbiamo per poter comunicare, lo abbiamo verbale e anche non verbale, ma c'è da dire che il linguaggio deve essere anche molto interpretato, nel senso che, come la liturgia della parola oggi ci dice, tra il libro trattato dagli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo sedicesimo, i primi dieci versetti, Paolo, un altro compagno di viaggio, Timoteo, alla fine lo Spirito Santo li porta ad annunciare il Vangelo in Macedonia. Un macedone lo supplicava in una visione, gli diceva, vieni Macedonia eutaci. Quindi andiamo a vedere come il cammino di Paolo lo porta in Grecia. E allora è un cammino guidato dallo Spirito, verso il quale Paolo riesce a interpretare i suoi segni, il suo linguaggio. Un linguaggio che il mondo non sempre riesce a captare. Siamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo quindicesimo, dal versetto 18 al versetto 21. Voi non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, e pure il mondo questo vi odia, perché non comprende quel linguaggio che è il linguaggio del Vangelo, della buona novella. Quindi certe volte se si segue Gesù si è dai fessi, perché ci si va tra virgolette a rimettere, si è chiamati a fare forze dall'esterno delle rinunce, chissà quali grandi siano, per dire che è vero che le persone non hanno quel linguaggio che riesce a captare i segni della grazia. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E allora pensiamo oggi a questa giornata di sabato, dove forse tante sono le attività che abbiamo desiderio di fare, che durante la settimana non riusciamo a compiere, ma pensiamo anche se questo tempo che ci è dato del fine settimana è anche una ricerca per le cose di lassù, le cose del cielo. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.